... Innanzitutto partiamo da un assunto, oggi sicuramente hai giocato nel tuo ruolo naturale, dove ti senti più a tuo agio, no? Sì, 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 ho giocato anche contro Provercelli e questa era credo la seconda gara, un ruolo per me preferito, sono contento che è andata così e abbiamo raggiunto la salvezza matematica. Lì dietro però qualche pericolo lo avete corso, anzi, ve lo siete quasi creato da soli i pericoli? Sì, sì, soprattutto credo a primo tempo due retropassaggi così così, però era un po' erba un po' più alta come al solido, meno male che è scappato solo un gol, quell'altro ha parato Luca. Tu hai dato una spiegazione anche di questi due retropassaggi, perché dal primo è scaturito il gol, dall'altro, insomma, non è scaturito il gol, però ci dai una spiegazione, cioè c'era l'erba un pochino più alta del solido per questo? Sì, però non è una scusa, era un retropassaggio, anche un po' comunicazione, un po' di tutto, meno male che è andata così, solo un gol. L'attacco del Cesena quanto ti ha messo in difficoltà, te e i tuoi compagni, da 1 a 10? Da 1 a 10? 6 e mezzo, dai, perché secondo me hanno un attacco molto forte, i giocatori come Ragusa, Djuric e Falco sono molto pericolosi in attacco, quindi dovevamo stare molto attenti. Diciamo che il dinamismo di Falco e anche l'ex Rosso Verde Ragusa forse sono stati i più pericolosi, al di là poi del gol di Rossetti. Sì, 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 anche secondo me lo penso così, però Cesena ha un'ottima squadra con i giocatori forti di categoria, quindi è normale che ci mettono anche in difficoltà. La nota positiva di giornata, al di là della aritmetica salvezza, è che l'Adenana è riuscita a centrarla proponendo una squadra, se vogliamo, inedita, perché c'erano dal primo minuto tanti ragazzi che hanno giocato poco. Sì, sì, perché sono stati tanti giocatori male, infortuni di tutto questo, però credo che la nostra forza era questo, che quando serviva, quando si faceva qualcuno male, altro era subito pronto. Ci abbiamo visto Marco, Enrico, anche Bello, hanno dato una grossa mano in questa partita, anche Santa Croce. Nello spogliato la salvezza come è stata accolta? Siamo contenti che è andata a finire, siamo matematicamente salvi, quindi quello è importante. Adesso guardiamo altre due partite davanti che ci sono per farle bene, chi giocherà giocherà, però farle bene. Non era per niente scontato conquistare un punto contro il Cesena, perché a fronte di una Ternana, insomma, che ormai era quasi salva, anche se non aritmeticamente, invece il Cesena veniva a Terni con l'ambizione di far bottino pieno, perché ancora non sono così tranquilli per quello che riguarda i play-off, no? Sì, sì, play-off stanno là, uno o due punti può decidere proprio poco. Per noi era importante fare almeno questo punto per la salvezza matematica. Senti, che dici della tua stagione qui a Terni? Di quest'anno? Di quest'anno la vedo così così, poteva sicuramente andare anche meglio, anche peggio, nuovo ruolo, nuovi ruoli ho provato, quindi ho imparato altre cose e così. La vedi così così, perché in alcune partite sei stato spostato dal tuo ruolo naturale in un altro in cui ti trovi con più difficoltà? Sì, sicuramente, ma non sono qui per piangermi addosso che non sono mancino o queste cose. Cioè, mister mi vedeva per far bene anche terzino-sinistro quando serviva e ho provato a fare il mio migliore. Poi, quello che non sono terzino credo che lo sanno tutti. Beh, sì, in effetti devo dire che lui tra l'altro è stato anche bravo a cercare di adattarsi, perché per uno che è completamente destro, giocare insomma a sinistra non è la cosa più semplice del mondo, no? Eh, sì, 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 e poi altre non c'ho le caratteristiche proprio per far terzino, sì, sì, sì. Bocca al lupo. Grazie. Grazie, crepi al lupo.